Allora, il VII Financial Forum a Bari ci ricorda come è nata l'iniziativa e quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? Allora, come anticipava lei, siamo alla settima edizione, quindi il settimo anno che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata organizza questo evento. L'iniziativa è nata per portare anche nella nostra città, la città di Bari, nel sud Italia, un evento riconosciuto forse tra i più importanti per il centro sud Italia. È nata perché la Banca Popolare di Puglia e Basilicata voleva e vuole continuare ad essere la banca del territorio insieme alla propria rete di promotori finanziari. Il tema di quest'anno è l'educazione finanziaria, si parla di questa materia piuttosto spinosa, diciamoci la verità, perché avete scelto questo tema? Il motivo è semplice, noi stiamo vivendo un mondo completamente diverso da quello che è stato il mondo passato. Se pensiamo al XX secolo è stato il mondo della sicurezza, in cui lo Stato interveniva su tutto, aveva creato delle reti di protezione verso i cittadini, dall'istruzione alla pensione, alla tutela dell'occupazione. Il XXI secolo, ahimè, purtroppo non è più così. Lo Stato si è arretrato da un punto di vista di welfare collettivo, quindi oggi tocca al cittadino, al risparmiatore, pensare per quanto riguarda l'istruzione, la pensione, l'occupazione e quant'altro. Quindi il tema dell'educazione finanziaria credo che sia un tema focale in questi anni. Nel frattempo sono aumentati in termini di numeri e di complessità i prodotti offerti dagli intermediari. Oggi il cittadino si trova a dover gestire un capitale, il risparmio di una vita, con delle conoscenze non proprio adeguate. Basta vedere anche le ultime indagini, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Ahimè, noi italiani risultiamo sempre tra gli ultimi in classifica in termini di cultura finanziaria. E in questo se si decide alla fine di superare le resistenze e di aprirgli la porta di casa, anche il promotore finanziario, quando fa bene il suo lavoro, può essere un punto di svolta per il risparmiatore. Voi come lo declinate nella vostra rete e poi magari le chiedo qualche numero. Certamente. Ma guardi, faccio una premessa su questa sua domanda. Il mondo delle reti ormai da anni sta vivendo un momento, se vogliamo, molto rosio, molto florido. Ciò nonostante però anche per noi, per promotori finanziari, insomma, è necessario dare una svolta. Una svolta in termini di comunicazione con il risparmiatore. È cambiata la comunicazione e sta cambiando sempre più la comunicazione. Oggi il rapporto con il nostro cliente va inteso come un rapporto innanzitutto di relazione più che di prodotto. E infine, per l'appunto, lei è alla guida della rete della promozione finanziaria della Banca Popolare di Puglia e Basilicata da quasi due anni. Sì, esatto. A novembre sono due anni. E quali sono i numeri della rete e soprattutto quali sono gli obiettivi anche in termini numerici della rete? Guardi, allora, due anni fa quando sono arrivato in questa rete, ahimè, abbiamo dovuto agire su un'attività di demarketing. È brutto a dirsi, ma abbiamo dovuto purtroppo mandare a casa un bel po' di promotori finanziari. Quindi è stata fatta un'attività di pulizia, se mi permette il termine. Nel frattempo la rete è cresciuta, abbiamo quasi raddoppiato il portafoglio medio per promotori finanziari e soprattutto la qualità della raccolta. Gli obiettivi in futuro sono degli obiettivi assolutamente sfidanti. Abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 600 milioni di raccolta totale e soprattutto con un 70-75% in prodotti altamente strategici, per noi e per il cliente. 600 milioni nel 2014? Qual è il riferimento temporale di questo dato? L'obiettivo è il dicembre 2016. Nel frattempo una crescita anche numerica in termini di professionisti. Noi siamo orientati al reclutamento di professionisti già affermati senza disdegnare ovviamente anche il neopromotore finanziario. Infatti stiamo pensando di ripartire con una scuola di formazione proprio ad hoc per i neolaureati da inserire nel mondo della promozione finanziaria. E l'ultima domanda, quali sono i numeri che avete in mente per quanto riguarda i promotori finanziari al 2016? Allora, noi due anni fa eravamo 140 promotori finanziari, oggi siamo circa 100 promotori finanziari. L'obiettivo per il dicembre 2016 è arrivare ai 150 promotori finanziari. Perfetto, grazie mille e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei.